Non so niente, anche perché ti dico la verità, da quando so vedova? Ah già è vedova, sì scusi. Ma che so vedova? Cosa dice sto tanto bene? Ma come sta bene? Io ne volevo fare le mie condolianze, scusi eh. Da quando... Da quando so vedova so renata? Ma come perché dice così? Ma come pensavo di aver lasciato una vedova allegra, di avermi trovata una contrita, sconsolata? Quanto sto bene, senti, mi marito sta con il cimitero di Chiara Valle. Io sto di casa mia, ci fanno i cazzi nostri. Allora, capito, capito. Ma non andrei così fiero? Le dico la verità, sto tanto bene, scappo quando mi pare, spendo quando mi pare, rientro quando mi pare, non fa un cazzo da maniare. Io sto bene, sto bene. Non è che io capirai, io fo' parte del CENC. Il CENC sarebbe? Io, fo' parte del suo comitato, so proprio, diciamo, un membro onorario. E abbonata, sì. E sarebbe un'associazione che di Chiara Valle, il CENC. Un'associazione tipo quelle che giocano a bridge, che ballano il tango. Sì, le gente raffinata, le gente firmata, le gente che gli piace la bella vita, la height society, diciamo. Quelli che vanno da GISA e da Essenzia, così questi qua. Questi chi? Siamo di noi altri. Il CENC è un acronimo che sta per? Caga e non chioppa. Ah, per questo sta. Grazie. 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 Grazie a tutti.